Hanno rubato una vittoria a Ferrari e adesso abbiamo le prove certe e in questo video voglio farvi vedere come mai la gara di Baku doveva aspettare a Leclerc e non a Piastri Abbiamo la telemetria, ci sono i dati, vi faccio vedere tra poco, vi faccio vedere anche il confronto con Austin perché è fondamentale per comprendere la situazione E soprattutto capire il perché la FIA ha agito male ancora una volta Prima di tutto però andiamo a vedere, si aggiunge una bandiera a Ferrari, alla fabbrica Maranello e quindi per la vittoria ovviamente di Austin la doppietta conquistata da Ferrari meritatamente Si è dimostrata la prima forza e abbiamo visto una Ferrari molto più forte di McLaren e Red Bull, soprattutto sul passo gara Abbiamo visto un passo costante di Leclerc che ci ha dimostrato essere forte nelle curve veloci, curve lente e anche nei rettilinei Dove è il punto chiave? Adesso vediamo insieme il perché la Ferrari era così forte nei rettilinei ma soprattutto il confronto tra Austin e Baku Prima di iniziare mi raccomando like e iscrizione se vi piacciono anche questi video, approfondimento dove andiamo a vedere gli aspetti chiave della gara Che ci fanno comprendere le motivazioni dietro alle vittorie dei vari piloti, delle varie squadre Ovviamente ditemi la vostra nei commenti se siete d'accordo con la mia analisi oppure se l'avete interpretato in un altro modo E ditemi anche la vostra sulle gare future, secondo voi Ferrari riuscirà a vincere anche in Messico, in Brasile e nelle gare successive? Ditemi la vostra nei commenti che sono curiosi, leggi, rispondere a tutti quanti, creare un po' di dibattito e discussioni qui sotto nel video Ovviamente vi ringrazio anche i messaggi di supporto ma ora iniziamo subito Allora sono carichissimo, non vedevo l'ora di fare questo video per farvi vedere le differenze concrete sull'ala posteriore di McLaren e Ferrari Allora, questa è la telemetria di Austin, ho preso il giro di Piastri e Leclerc a confronto Piastri per tutto questo video lo teniamo in arancione e bianco, mentre Leclerc sarà sempre in verde e in rosso Quindi tenete a mente questi colori così non vi sbagliate Ho preso come confronto un giro dove Piastri ha usato il DRS e un giro dove anche Leclerc ha usato il DRS E un giro dove Piastri non ha usato il DRS e dove Leclerc non ha usato il DRS Quindi abbiamo, diciamo, i due confronti tra Ferrari e McLaren con DRS e senza Vediamo qui, allora, sul secondo rettilineo che è quello principale, quello più indicativo secondo me Anche perché raggiunge le velocità di punta più alte Vediamo che Ferrari ha una differenza di 20 km orari tra la sua velocità di punta con DRS e senza Infatti, se andiamo a vedere la parte più alta del grafico, Ferrari raggiunge 333 km orari come velocità di punta massima Mentre la velocità di punta minima senza DRS è di 311 km orari Quindi 22 km orari di differenza Al contrario, se prendiamo invece Piastri, vediamo nella velocità di punta massima 325 km orari Mentre 304 più o meno è quella senza DRS Quindi anche lì 21 km orari di differenza Però, qual è il dato significativo? È che la velocità di punta di McLaren è di 10 km orari in meno rispetto a quella di Ferrari senza DRS Mentre con il DRS a differenza è di circa 6 km orari a favore di Ferrari In questo confronto vediamo che Ferrari ha una velocità di punta maggiore di McLaren a Austin Ma se andiamo a prendere la telemetria di Baku Beh, la situazione è opposta Abbiamo una velocità di punta di McLaren superiore rispetto a quella di Ferrari Adesso vi faccio vedere anche la differenza E se prendiamo questo è l'esempio di Baku Con il giro in uscita quando Piastri era dietro alle Clerc E in più anche i giri senza DRS di entrambi i piloti Se andiamo a prendere la velocità di punta Vediamo che abbiamo una velocità di punta di McLaren Che raggiunge 341 km orari con Piastri E la velocità, quella con il DRS Mentre senza DRS è di 321 km orari Al contrario, le Clerc raggiunge la velocità di punta di 337 km orari E ha una velocità minima invece senza DRS Di 320 km orari più o meno poi scende Quindi 320-321 Fatto sta che le Clerc raggiunge anche i 338 Però capite bene che la differenza è più o meno quella Invece la cosa che salta subito all'occhio È che McLaren ha una velocità di punta Sia con il DRS che senza il DRS Molto simile a Ferrari Quasi uguale a Baku Mentre Austin con l'ala posteriore modificata Senza l'ala posteriore mobile Ha una velocità di punta di 10 km orari meno E 6 km orari meno Quindi Questo è un dato oggettivo ragazzi È un dato concreto Vi ho fatto vedere la telemetria Ci dimostra che Ferrari Avendo l'ala posteriore uguale Ok Tra quella di Baku E quella presentata a Austin Ovviamente cambia magari la specifica circuito a circuito Ma non ha avuto mai l'ala posteriore flessibile a Ferrari Ha una velocità di punta costante E quindi ci dimostra che ha raggiunto più o meno le stesse velocità di punta Vedete La differenza poi va in base al rettilineo Però Diciamo che la velocità di punta è quella Mentre McLaren Avendo cambiato l'ala posteriore flessibile Ci dimostra che a Baku Ha una velocità di punta Uguale a quella di Ferrari Se non superiore Perché di qualche km orario E sta anche superiore McLaren Se andiamo a rivedere il grafico Vedete chiaramente che La differenza con DRS Tra Ferrari e McLaren Con McLaren in arancione E Ferrari in verde Con il DRS Vedete bene che comunque McLaren è superiore E al tempo stesso Con l'ala posteriore chiusa Vedete anche che McLaren Comunque ha una velocità di punta superiore A Ferrari con l'ala Con il DRS chiuso Quindi capite bene Che McLaren era superiore a Baku Come velocità di punta di Ferrari Invece a Austin È stata 10 km in meno Più veloce E 6 km in meno Meno veloce Quindi assurda questa differenza Vi faccio anche rivedere La grafica di Austin Zoomata Giusto per farvi un'idea Vedete qui Piastri in questo caso Con il DRS in bianco Mentre l'Eclair Con il DRS in rosso Vedete che è superiore A Ferrari in questo caso Con la velocità di punta Rispetto a McLaren Sia con il DRS che senza Questo vi fa capire Che quell'ala posteriore flessibile A McLaren Ha fatto la differenza Fino a Baku E la FIA Ha semplicemente detto Voi da Baku in poi Non la usate più Ma non li ha penalizzati Per le gare prima Ma a Ferrari Hanno rubato Oggettivamente Una vittoria Perché a Baku Senza quell'ala posteriore flessibile Di McLaren In Ferrari Avrebbe vinto Con l'Eclair Questa Era la realtà Dei fatti E ho voluto farvela vedere Con la telemetria Perché non dovete credere A me ragazzi Cioè io vi dico sempre Non credete a me Quello che vi dico Io vi dico la mia opinione Vi dico Quello che leggo Anche dai dati Però fidatevi dei dati Fidatevi di quello che dice La telemetria E quella è la cosa Più importante Secondo me Quindi abbiamo visto Una straordinaria Doppietta Ferrari A Austin Però le vittorie di Ferrari Potevano essere Una in più Quest'anno E faceva differenza Anche nel campionato Costruttori Voglio dirvi anche Un'altra cosa Riguardando la telemetria Sempre di Baku Vedete proprio come L'ala posteriore Flessibile di McLaren Quando è chiusa Però rimane aperta Per appunto Il discorso della flessibilità Vedete che non va A diminuire La velocità Di McLaren stessa Ma rimane Sempre costante Sto guardando Il bianco di Piastri Ok la linea bianca di Piastri E la linea rossa Di Leclerc Quindi con l'ala posteriore Col DRS Chiuso Quindi vedete come Cambia nettamente A differenza Sono 8 km di differenza A favore di Piastri Usando questa L'ala posteriore Flessibile Che quindi ha comportato Un gran vantaggio Per Piastri E quindi Una vittoria sfumata Per Leclerc Giusto per contestualizzare Vi faccio vedere L'ala posteriore Flessibile Di McLaren Con il confronto Con Red Bull E Ferrari A dimostrazione del fatto Che sia Red Bull Che Ferrari Non l'hanno utilizzata Mentre McLaren Si è evidente Anche dal riflesso Del sole Che ci fa Vedere Come l'ala posteriore Era flessibile Di McLaren Ma la posteriore È più penalizzato Per Ferrari Per Ferrari Che invece Non conquisterà Se non riesce A conquistare La seconda La prima posizione In campionato Quindi Attenzione Che Io se fossi in Ferrari Farei ricorso Per le gare precedenti Che gli altri team Hanno sfruttato Qualcosa di illegale A proprio vantaggio Perché i dati ci sono Cioè I dati sono oggettivi E vediamo che In questo caso Ferrari è stata Veramente penalizzata E hanno rubato Una vittoria Perlomeno una vittoria Che è quella di Baku Quindi Ditemi anche la vostra opinione Nei commenti Riguardando i dati Ditemi anche la vostra Ho voluto prendere Proprio le clerche I piastri A Ossine e Baku Così sono gli stessi piloti Le stesse dinamiche L'ala posteriore Ovviamente Quella di McLaren È cambiata L'ala posteriore Di Ferrari Invece È quella Solita Insomma Quindi Ditemi un po' La vostra Anche in merito Prima di concludere il video Che ho trovato in questi giorni Che sono molto divertenti Da notare insieme Prima di tutto Una cosa un po' seria Guardate il passo gara Tenuto da Leclerc Con gomma media Con gomma hard Dall'inizio alla fine È stato costante Un martello 38.9 39.5 39.3 39.2 39.4 39.5 39.4 E continua così Con gomma media Poi con gomma hard 38.6 39.0 39.0 38.6 38.8 39.0 Insomma Un martello Fino alla fine E tanto è vero Che ha concluso la gara Facendo un 37.9 Continuava a abbassare i tempi Sintomo che sicuramente C'era poco degrado Delle gomme In una pista Con l'asfalto nuovo Come Austin Però al tempo stesso Ferrari è migliorata tantissimo Sulla gestione delle gomme E questo pilota qui Non gli si può dire più nulla Anche sulla gestione delle gomme Riesce a farlo in maniera Ottimale Ed era uno dei punti Deboli di Leclerc Che è cresciuto tantissimo Anche su questo aspetto Quindi voglio sapere Anche la vostra Sulla guida di Leclerc Se lo vedete Pronto per lottare Per il mondiale Perché secondo me Sì È pronto Finalmente Leclerc ragazzi È un pilota Completo Era un pilota fortissimo È sempre stato un pilota fortissimo Per carità Però l'aspetto Da gestione delle gomme Era un suo punto debole Soprattutto ai tempi Nel confronto con Vettel Mi ricordo Ancora quando Vettel Era in Ferrari E adesso invece È migliorato tantissimo Su questo Ed è pronto Per lottare Per il titolo E non vedo l'ora Quindi che sia il 2025 Per vederlo là davanti Tra l'altro sarà anche Hamilton Come compagno in squadra Insomma Sarà davvero davvero bello Mi avete chiesto In tantissimi Di commentare Anche questa Diciamo Dichiarazione di Vanzini Che ha detto Leclerc Una macchina Come quella di Lando Oggi A differenza di Lando Meno 52 Sarebbe in testa al mondiale Siete d'accordo O no? Questa è una bella dichiarazione Secondo me Io sono d'accordo Nel senso che Leclerc Ha fatto Potrebbe fare Meno errori di Norris In ottica mondiale E Norris Ha fatto troppi errori Finora Non regge A livello di testa Vestappen E quindi Leclerc È più forte A livello di testa Rispetto a Norris E anche più forte A livello di talento Secondo me E anche come gestione Le gomme E tutto quanto Vedo Leclerc Superiore a Norris Quindi con una macchina Da mondiale Una macchina Che è la prima forza Abbiamo detto finora Ovvero la McLaren È stata almeno Fino a questo momento Beh Leclerc Sarebbe in testa al mondiale Quindi sì Secondo me Leclerc sarebbe in testa al mondiale E avrebbe anche la meglio Su Vestappen Secondo me Questo Questo Leclerc qui Però ovviamente lì c'è molta discussione In merito Questa è la mia opinione E se abbiamo una Ferrari Che sta migliorando tanto È in netta crescita Rispetto ad altri team E vediamo una Ferrari Che vince finalmente Ed è prima forza E lo dimostra in pista È anche merito suo Ragazzi Vasseur Al primo anno di gestione Condivido quello che dice Piero Ladisa La Ferrari Ha ottenuto dopo 19 gare Quasi 150 punti in più Rispetto al 2023 Ed è in lotta Per i costruttori È effettivamente Là Circa 50 punti Da McLaren Nei costruttori E le vittorie sono quadruplicate I numeri sono molto positivi E mancano ancora 5 gran premi alla fine Quindi attenzione Vasseur Ha fatto la differenza In termini di gestione del team Anche miglioramento della macchina E ha messo le persone giuste Al ruolo giusto Questo è fondamentale E vedremo l'anno prossimo Con l'arrivo di Hamilton Se la squadra può migliorare ulteriormente E anche Leclerc Ci crede molto Adesso sentiamo anche Le dichiarazioni delle Leclerc Che sono molto belle Abbiamo bisogno di ottenere Winniere l'arrivo di Constrictors È un obiettivo Ma è quello che stiamo qui Perciò Quindi Siamo fare la matematica A l'arrivo di l'arrivo di l'arrivo E fino ad ora Credo che la migliora cosa Che possiamo fare È di concentrare Nessere 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 Perfomance Juste come abbiamo L'arrivo di l'arrivo di questa settimana È stato un buon Buon weekend Per la squadra E per l'arrivo di l'arrivo di Constrictors E Siamo cercando di riprodurare Speriamo Insomma L'obiettivo di Ferrari È ottimista Sicuramente Vincere il cambiato costruttori Ma ci devono credere Perché è fattibile ragazzi Il cambiato costruttori Con un Leclerc Con un Sainz Così forti A differenza di Red Bull Che ha un Perez Che fa fatica E anche McLaren Che si dà fastidio da sola Tra virgolette Con i due piloti Comunque Forti Ma Norris non c'è A livello di test L'abbiamo detto più volte E quindi fanno fatica Anche nella gestione Dei piloti stessi Beh Ferrari è là davanti Quindi Cioè può farcela In questa parte finale di stagione Sicuramente Se non ce la farà La vittoria di Bacchus Fumata Di Leclerc Beh andrà a pesare anche La matematica E nei calcoli del caso Quindi Ho voluto fare questo video Per chiarire la situazione Sulla vittoria Rubata a Ferrari Effettivamente Da McLaren Quindi E voglio sapere anche la vostra In merito Cosa ne pensate di quella gara lì Della reazione Che ha avuto la FIA Nel Semplicemente dire Voi non usate più Quest'ala posteriore flessibile Però Nelle gare precedenti Non venite penalizzati Come giudicate Questo comportamento Della FIA E soprattutto Ora che Andrà a pesare tanto Ferrari dovrebbe agire Di conseguenza Dovrebbe far qualcosa Far reclamo Alla FIA Perché Cavolo Se quella gara là E i punti di quella gara là Pesano per il cambiato costruttori Io se fossi in Ferrari Mi incavolerei Cioè direi Cavolo Mi avete rubato dei punti In quella gara lì Però io avrei vinto Il titolo costruttori Ma che è sta cosa Ditemi la vostra Vi ricordo ovviamente Di lasciare un like Di iscrivervi Attivare le notifiche Per non perdervi Nessun video Che c'è qui sul canale Ogni settimana Esce un nuovo video A tema auto Ogni giorno Esce un nuovo video A tema auto E Formula 1 E andiamo a analizzare Tutte le situazioni Del caso Voglio farvi vedere L'ultimissima cosa Ragazzi Scusate se mi dilungo oggi Ma queste dichiarazioni Di Colapinto Mi hanno fatto morire Ho deciso io Le due in partenza Se non avrò un sedile Posso candidarmi Come stratega In Formula 1 Grande Colapinto Ragazzi Anche le dichiarazioni Fa morire da ridere Ha detto tipo Che un pilota Ha montato gomma nuova A fine gara Con i problemi Che abbiamo nel mondo Si può sprecare Un treno di gomme Così Insomma Cioè Colapinto ci fa Delle dichiarazioni Ci fa morire da ridere Sempre a fine gara Merita un sedile Per il 2025 Non scherziamo Cioè ragazzi Colapinto Io lo voglio vedere Là In Formula 1 L'anno prossimo Cioè Voglio commentare Anche ovviamente Perez Ha iniziato È partito In ottava posizione Ha finito La gara In Dietro una macchina Che è partita Dalla pit lane Che è anche una macchina Più lenta Ovvero quella di Russell Che ha recuperato 14 posizioni È arrivato sesto Insomma Cioè capite bene Che Perez Avrà vita breve Secondo me In Red Bull Se continua così Ma Già secondo me Perez Aspettano ovviamente Il weekend del Messico Che sarà un weekend Per lui dedicato Sono tanti tifosi Quindi non vogliono ancora Diciamo Destabilizzare L'ambiente in casa Red Bull Per Perez Per la sua gara di casa Però dopo Verrà annunciato Che semmai Verrà sostituito Con un altro pilota Probabilmente Lo Oson Che ha fatto La prima gara In Red Bull Scusate In Racing Bulls Benissimo È andato fortissimo Quindi Probabilmente Prenderà il suo posto In Red Bull L'anno prossimo Qui del resto è tutto Vi lascio altri video correlati qui Logo il mio canale qui al centro E ci vediamo A un prossimo video Qui del resto è tutto Qui del resto è tutto